Sì, non moriamo mai come la città, come tutti i bergamasti, perché si è visto oggi, non abbiamo iniziato benissimo, ma poi abbiamo preso la partita in mano e credo alla fine, anche come abbiamo giocato a seconda tempo, abbiamo meritato di vincere. È stato un match tosto, questa Lazio è partita forte, si è portata sul 2-0. Sì, non eravamo troppo ordinati i primi 20 minuti, ma poi credo che abbiamo sistemato tutto, magari hanno avuto un altro, uno o due occasioni, ma poi abbiamo giocato veramente fortissimo, con grande intensità e anche con grande testa e grande tecnica, quindi così potevamo girare la partita. Qual è stata la svolta della partita, l'aver dimezzato lo svantaggio prima di andare a riposo? Sì, trovare il 2-1 era certo, era molto importante, ma credo già prima abbiamo iniziato a giocare meglio tecnicamente, non abbiamo più sbagliato i passaggi facili e anche difensivamente abbiamo fatto molto meglio e quindi magari lì i primi dieci minuti del 2-1 e poi il golse. Adesso c'è tempo per gioire o testa subito all'Udinese? Sì, c'è domenica, giochiamo un'altra partita, fuori caso contro l'Udinese, è un'altra partita molto importante anche per la classifica, perché anche la Roma e tutti gli altri hanno vinto. Noi vogliamo fare tre punti anche lì, quindi riposiamo bene e andiamo con il 100% a Udine. Noi vogliamo fare tre punti anche lì, quindi riposiamo bene e andiamo con il 100% a Udine.